Comunque, facciamoci una foto, anche perché dobbiamo immortalare questo momento. Posso? Esco sul tuo profilo. No, ammettiamo così, l'andiamo a postare, vai, sorridi, sorridi. Adesso sorrideremo. Attenzione, vai. E poi mi tagli, mi tagli. Cioè, non hai staccato il cellulare prima di entrare sul palco. Ho messo la funzione aereo. Ma che aereo? No, ero convinto. Ma che aereo? Ancora con l'aereo, non l'avrebbe mai preso. Vabbè, vabbè, facciamo. No, no, che va bene, ma dai, ma con il tuo mestiere. Poi la facciamo, poi la facciamo. No, 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 no. Hai fatto questa cosa pubblicamente? Adesso pubblicamente... Io, per lo scusa, pensavo che fosse spento il telefono. Eh, lo so. E invece è acceso, adesso lo prendi, rispondi e fai sentire a tutti la telefona. No, non è che chiudono. No, paghi tazzo. Vabbè, poi rispondo. No, rispondi ora, bravi, metti in viva voce, tutti dobbiamo sentire. Viva voce nel telefono. Lo squillo ce l'avevi? Alto. Alza la... anche il microfono. Io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono. Ma di chi è sta voce, scusa? Voce del verbo es. Grazie. Grazie. Grazie.